Ciao a tutti ragazzi, sto partendo, sto andando in Sicilia, guardate la bici, i bimbi, la moglie, scusate sono un po' raffreddato e niente, cercherò di fare tutte e tre i versanti dell'Etna, cioè il rifugio Citelli, Piano Provenzana e il rifugio Sapienza se riesco faccio anche la salita, anzi il giro dell'Etna sono circa 156 km con 5.000 m di dislivello, vediamo, poi vediamo perché Strava con il dislivello non è che sia tanto affidabile ok ragazzi, mi raccomando, seguitemi in Sicilia dal 27 al 2, credo di fare qualche uscita sempre se il tempo lo permette perché da pioggia, fulmini, lampi e tutto il resto, ok ragazzi, ci vediamo in Sicilia e come al solito mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis, ciao e al prossimo video